Ciao a tutti, diventa priorità per lui. Se vuoi essere felice nelle tue relazioni sentimentali effettive devi impostare la tua comunicazione in modo tale da essere prioritaria per lui, di essere una persona importante, non essere un optional, perché se tu sei un optional vuol dire che non vali assolutamente niente. Gli optional vengono relegati, vengono dati per acquisiti, vengono scartati, vengono maltrattati, vengono bistrattati. Vediamo come fare per essere priorità. Prima cosa però iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e seguimi anche sugli altri canali, crescita personale, felicità, benessere, moro, autostima. Adesso veniamo a come essere prioritaria per lui, devi essere la priorità. Intanto la prima cosa cara malgasciona che devi tenere presente è che devi avere dignità, perché se non dai dignità a te stessa ce l'hai in quel posto che neanche Rocco Siffredi riesce a inserirtelo. Allora, questa è la prima cosa fondamentale. Devi dimenticare le emozioni ma ricordare ciò che meriti, ricordare ciò che veramente meriti, perché tu meriti. Perché se pensi di non meritare non sarai mai prioritario. Invece tu vivi, ti nutri di schifezze mentali, ti nutri di emotività, ti nutri di emotività diciamo scadente. Ti prendi le supposte scadute. Ecco, devi smettere di prenderti per bocca, diciamo così, supposte scadute e dare, iniziare a dare forza, diciamo, a dare energia alla tua vita. Questa è la cosa più importante. Non puoi continuare a viverti il pathos, viverti la tensione e nutrirti di pathos e di tensione. Però altrimenti sarai sempre all'ultimo posto. Altra cosa, se vuoi essere prioritaria, smetti di inseguire. Devi smettere di inseguire e eventualmente lasciarti inseguire. Ma se tu fai, come dire, il gatto che rincorre, anziché fare il topo che fugge, te lo prenderai in quel posto, perché apparirai come bisognosa. E poi tieni presente che gli uomini, ad esempio, sono completamente spesso visivi, per cui devi prenderti cura. Allora dici, ma io non mi interessa, questo è un qualcosa. Cioè, se vuoi essere prioritaria, devi farti percepire come preziosa. Essere preziosa vuol dire essere appetibile. Essere appetibile per altri uomini, non per quello anche. Essere appetibile anche per altri uomini. Se tu vai in giro sciatta, sei una sciattona, sei una sciacquetta, che è, come dire, diventa una donna di valore e vedrai che gli uomini ti verranno dietro. Una donna di valore è anche una femmina di valore. Femmina nel senso di essere comunque appetibile. E per fare questo devi dare priorità alla tua vita sociale. Tieni presente che poi la cosa peggiore, ad esempio, se ci sono uomini che intrecciano relazioni con altre donne, la cosa peggiore è quella di dargli la priorità. Tu non devi assolutamente dare priorità a qualcuno, devi fottertene. Tanto, come dire, di maschi ne trovi quanti ne vuoi, cioè, e uno vale l'altro. Ecco, questo, eh no, non sono tutti uguali. Ma sì, gli esseri umani sono strumenti, sono strumenti per farci vivere delle emozioni, ma di fatto uno vale l'altro poi alla fine. Per la parte emotiva, la parte emotiva, diciamo, è la parte logica che si fissa sulle persone, perché la parte emotiva guarda il processo energetico, questo è fondamentale. Ebbè, tieni presente che poi una caratteristica maschile fondamentale è il fatto che un maschio deve conquistare. Tieni presente questo, che un maschio, i maschi hanno un punto debole e tu devi sfruttare questo punto debole per farli cadere. Qual è il punto debole del maschio? È il cosiddetto orgoglio maschile. Cioè, ogni maschio ha due, diciamo, tarli nella testa. Ce l'avrò piccolo o sarò, e quindi non in grado, piccolo nel senso di non in grado di soddisfare una donna, oppure sarò impotente, appunto, e non in grado quindi di soddisfarla. E tu devi giocare su queste cose, il che non significa che devi tranquillizzarlo. Dirgli, ah, tu potresti tranquillizzarlo, diciamo, se lo tranquillizzi sul fatto che ce l'ha grosso, devi penalizzarlo dall'altra parte. Intanto iscriviti al canale YouTube Massimo Taramasco, seguimi sul canale YouTube Massimo Taramasco e anche sugli altri canali, crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Una cosa che potresti fare, ad esempio, per gratificarlo e penalizzarlo sulla sessualità, che, ripeto, è un punto debole del maschio, potresti dire che ce l'ha grosso, ma, però, penalizzando. L'esempio è che si dice, guarda, devo proprio farti complimenti perché tu sei quello che ce l'ha più grosso tra tutti i tuoi amici. È in modo tale che, come dire, gli fai un complimento, ma lo penalizzi lo stesso, no? Sei quello che ce l'ha più grosso tra tutti i tuoi amici. Questo è un qualcosa che, perché va a colpire, va a colpire, e utilizzi un po' l'ironia, però va a colpire anche un po' il suo orgoglio maschile. Quindi prova questa frase a uno che, insomma, va così, no, ma tu ce l'hai più grosso tra tutti i tuoi amici. E quello lo va subito a destabilizzare, perché questo è la prestazione sessuale, tra virgolette, è una delle caratteristiche, è una delle cose che al maschio dà fastidio. E al maschio dà fastidio anche, come dire, che tu possa in qualche modo andare con altri uomini, perché questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Non devi temere che, ah, ma così mi prende per mignotta, o non mi prende per mignotta. Deve avere dei dubbi, attraverso l'ironia. È ovvio che una frase del genere, tu ce l'hai più grosso tra tutti i tuoi amici, è una frase ironica, no? Che però gli fa intendere che tu non stai lì ad aspettare il suo pisello. Se non c'è il suo pisello, ci sono altri. E la cosa peggiore che temono le donne, infatti, cosa temono le donne? Essere giudicate mignotte. Ecco, questo mi fa incazzare. Perché le donne temono di essere giudicate mignotte, poi vai a vedere i profili Instagram, vai a vedere i profili TikTok, e cosa fanno? Mostrano cosce, tette e culo. Allora, quando mostrano cosce, tette e culo su Instagram o su TikTok, non pensano di essere giudicate mignotte. Mentre invece, se dicono una frase del genere per andare a stimolare un maschio, oh, poi mi giudica mignotta, oh no, poi mi giudica mignotta. Non c'entra niente questo. Bisogna imparare, bisogna imparare a, diciamo, ad avere, a fottersene dei giudizi degli altri. Bisogna imparare a fottersene assolutamente dei giudizi degli altri. E devi tenere presente questo, che l'unico modo per conquistare un uomo è quello che deve temere di perderti. Deve temere che tu, diciamo, deve temere il fatto che tu gli possa, diciamo, deve temere il fatto che tu possa andare con altre persone. Se è questo è quello che devi fare, fintatto che non ottieni il risultato voluto. Quindi il condizionamento operante è una delle cose fondamentali. Il condizionamento operante è una delle cose fondamentali. Il condizionamento operante è gratifico e penalizzo. Penalizzo e gratifico. Questo è quello che devi fare. Ma non devi temere il giudizio degli altri, perché se temi il giudizio degli altri sei fregata. Se temi il giudizio degli altri sei assolutamente fregata. Non devi assolutamente fregartene di nulla. Il giudizio degli altri è un problema degli altri. Questo è quello che tu devi assolutamente fare. Ripeto, non c'è, anche nell'interazione con le persone, uno dei problemi che fregono le donne, eh, ma poi così, eh, ma poi così se ne va, eh, ma poi allora lo perdo. Se tu hai queste paure lo perderai. Tieni presente che i maschi devono comunque conquistare. E per conquistare devono devono capire che tu sei appetibile verso altri uomini. Devono pensare che tu possa, che tu sei corteggiata da altri uomini. Se tu ti fai vedere nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri, non hanno, non gli dai emozioni, non gli dai tensioni. Ma pensa, allora, ma questo vale anche per le donne e verso gli uomini, eh? Perché un uomo che è un erogatore di servizi, che è sempre disponibile, un cavaliere servente che appena schiocchi le dita arriva, quello non interessa a nessuna. Quello lì non interessa a nessuna. Potrebbe essere la persona migliore del mondo, ma non ne frega un cavolo a nessuna. Perché non dici, ma non è questione, non è che siamo masochisti, e che abbiamo una sfera emotiva che va alla ricerca, alla ricerca di emozioni. E questo è quello che, questa è la cosa. È ovvio che bisogna stimolare i dubbi, ma hai certezza. Non è che devi dire, me li sono fatta tutti, ma lui deve avere l'idea che ci sono tutti che ti vogliono fare. E questa è la differenza, e questa è la differenza, no? Non è che tu devi dare l'idea che ti sei fatta tutto il gruppo degli amici, ma lui deve avere l'idea che tutto il gruppo vuole farti. Vuole, ma non soltanto farti, vuole anche avere relazioni con te. Quindi devi instaurare relazioni di qualità. Cioè, quando è che tu devi, è proprio quando tu sei fidanzata, o addirittura stai iniziando a relazioni con una persona. È proprio lì che tu devi intrecciare altri rapporti di qualità. Perché gli antagonisti devono essere sempre presenti se vuoi generare sempre tensione. E gli antagonisti non devono essere, e non devono essere l'antagonista, non deve essere il catramista a cassa integrato. Potrebbe essere anche il camionista nel senso di persona trasgressiva. Ma, perché? Paradossalmente, quando uno è single che non è interessato a nessuno, è meno importante che intrecci in relazioni. Ma quando tu sei interessato a qualcuno, quando tu hai una relazione con qualcuno, è proprio lì che devi creare, che devi crearti una cerca di amicizie, che devi intessere tante relazioni. Perché la cosa fondamentale è quella. Bisogna sempre avere un network di connessioni, un network di amicizie. Perché se tu ti dichiari io sono nei secoli fedele, verrai messa lì in un canto, cioè, sì, certo, magari ti terrà. perché quella che è nei secoli fedele, quella che è nei secoli fedele, magari, viene spesso scartata. Quindi, questa è la cosa importante, è la cosa che devi imparare a fare. Se non riesci a fare questo, non verrai assolutamente proprio preso in considerazione. Bisogna imparare a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botta, un po' gratificare, un po' penalizzare. Questa è la vera chiave della seduzione. Ma ne parlerò ancora in un altro video più preciso. Per adesso ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, attiva la campanella e seguimi anche sugli altri canali crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.